L'ufficio di presidenza che si è insediato all'inizio di questa legislatura è partito con un lavoro determinato rispetto al rigore e alla sobrietà, perché questo è quello che ci chiedono i marchigiani e dei marchigiani dobbiamo corrispondere. Abbiamo tagliato una serie di spese, le spese di rappresentanza, le spese di gestione, le spese per la comunicazione e abbiamo già fatto un assestamento con un risparmio di 850 mila euro. Per il 2016 si prevede un risparmio di oltre 1 milione 100 mila euro. Questo vuol dire che cerchiamo di fare bene, magari anche meglio, ma risparmiando risorse. Questo credo che sia un dato doveroso, compreso il fatto che sono stati tagliati anche i fondi ai gruppi consigliari. L'altro tema è quello delle iniziative, per cui il Consiglio regionale non solo deve fare attività legislativa, non solo deve fare atti per la comunità marchigiana, ma deve anche saper valorizzare temi importanti, per esempio come quello dell'ambiente, come quello del volontariato, come il tema degli infanzi, il tema degli emarginati. Ecco, su questi temi il Consiglio regionale si vuole impegnare proprio per aprire un tema di discussione con tutta la regione Marche, dove tutti possano dire il proprio parere e dove tutti abbiano la possibilità di esprimersi, perché ovviamente il Consiglio regionale deve rappresentare tutti, con maggioranza opposizione, tutta la comunità dal sud al nord delle Marche.